Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! E' diverso perché? Perché c'è meno prendi-appoggia oggetti, anzi qui non c'è del tutto, teniamo tutto nell'inventario, questo è il primo confronto che faccio con quel titolo, cioè praticamente noi possiamo prendere un piatto e lo abbiamo nell'inventario, l'inventario è composto dalle prime 10 posizioni, sono quelle che shiftiamo da una all'altra con il mouse, con la rotellina, e poi possiamo andare ad appoggiarle. Fortunatamente per quanto riguarda, vedete in questo caso il porridge è fuori, quindi io sposto il torsolo e la selezione e clicco E e appoggio. Bisogna costantemente riempire la lavastoviglie per lavare i piatti e fare le varie ricette, aumentando di livello andremo a sbloccare come in questo caso vedete qui una ricetta in più e arrivando al livello scritto sulle varie porte della nostra taverna sbloccheremo nuove stanze e nuove funzioni. Ma non è tutto, perché? Perché praticamente, vabbè adesso vado qui, riempio. Dicevo, fortunatamente quando noi serviremo un cliente, se non abbiamo selezionato l'oggetto ma semplicemente abbiamo preso tutti i porridge che abbiamo qui, è come se li avessimo in mano su un vassoio, infatti non serve selezionarli, ma premendo E sul cliente, il cliente verrà servito. Bella cosa che gli utensili si usurano, così come anche gli equipaggiamenti, insomma, diciamo, le warbench e c'è il tavolo, il riparamartello, dove in questo caso mi faceva un, diciamo, usciva del vapore da qui e da qui io sono andato e l'ho riparato col martello. Abbiamo anche un'altra cosa che non avevamo visto nel corso della demo, che è questa, che è una bacheca di consegne di cibo, che ci pagano anche parecchio, io non pensavo una che me ne dava 200, ma non era qui il cliente, il cliente era da tutt'altra parte. Questa è la nostra mappa, l'ho comprata, costa 350 questa mappa, non serve a niente se non a vedere al momento dove possiamo andare e abbiamo varie direzioni, cioè possiamo andare al lago, possiamo andare ai campi, infatti uscendo qua possiamo vedere che c'è un cartello che ci indica dove si può andare. E lago, la foresta da quella parte, la palude da quella parte e i campi da questa. Nei campi ho trovato dei calabroni giganti e picchiandoli al momento non ho armi ho ottenuto il miele, che è un, diciamo, un ingrediente che al momento io non posso comprare perché devo essere a livello 7. Quindi in questo caso posso andare a venderlo, ne ho due, avrei 88. Qua vedete invece i mobili che si possono comprare, quindi andando avanti a livello 12 si sblocca la griglia, la griglia pro, il laboratorio alchemico, ma se guardate su quelli di consumo ci sono pozioni di salute, proiettili, balestra, dadi di balestra, semi e cose varie perché si può andare anche all'avventura ed è questo che vi dicevo come differenza sostanziale con l'altro gioco. Adesso il mercante mi ha detto guarda che dietro alla taverna c'è un tizio strano e ti insegnerà a coltivare, quindi noi andiamo da questo spaventapasseri. Mia madre dice che sono bello, a me giustamente. Lo so se è uno spaventapasseri molto bello, per qualcuno sicuramente sia al centro di tutto questo. Praticamente qua dovrò piantare, perché mi servirà anche, ad esempio potrò prendere il lupolo, potrò piantare il grano e fare la zuppa di grano. Allora, potremmo fare anche pozioni con le stazioni alchemiche, quindi questo gioco probabilmente verrà a noia una volta che si arriverà a livello massimo, quindi spero che ci si metta un po' ad arrivarci. Però per 15 euro è un gioco che senz'altro vale la pena, infatti a me onestamente viene voglia di giocarlo quando magari ho un attimo o non so cosa fare. Devo pulire tutta questa sporcizia, sì sì sì, va bene, va bene. Facciamo quello che abbiamo fatto all'interno della taverna, quindi puliamo il giardino dai detriti. Intanto mi si sta usurando anche la ascia. Dovremmo aver quasi finito. E anche l'accetta ha quasi finito in realtà. Anche questo. Ok. Ne manca uno che è questo. Speriamo basti. Ok. Ciao spaventoso. Non me lo devi ricordare ogni volta. Lavoro è finito. E' un bel giardino, sì. In più ci sono tante altre cose che devo ripiantare. I semi li vende il mercante fuori. E' illegale? Ah, l'erba magica, sì. E' qualche cereale, infatti. Il maes cresce qui vicino, potrei prendere i semi lì. Ok, quindi faremo anche un po' di esplorazione, credo. Va bene, trovo i semi di maes. Ok. Sì, non so quanto di esplorazione perché l'ultima volta era anche bello lontano. Vediamo. E mi sa che è bello lontano anche stavolta. Va bene. Vorrei... Eh no, volevo usurarla del tutto ma ne compro un'altra va. Perché... Perché non mi fido. Posso mangiarlo questo? Cos'è che ho scambiato? Scusate. Ah, la pinta, vabbè. Allora, fatemi mangiare. No, non me lo mangia. Peccato. Dov'è che era il maes selvatico? Missioni. Missioni. Ok, adesso dovrebbe... Ma non me lo indica più? Non c'è una mappa, non c'è niente. Vabbè, andiamo qua. Campi. Probabilmente è qua nella foresta, il maes selvatico. Infatti. Prendo. Il problema è che se lo fate prima del tutorial, probabilmente non ve lo fa trovare. Perché bisogna seguire in questi giochi sempre tutte le indicazioni di tutorial. Questo cos'è? No, non si può fare nulla. Cerchiamo questo ice. stando attenti a non incontrare qualche mostro, qualche avversario, perché... Ok, il terzo è qua. Perfetto. Torniamo dallo spaventapasseri. Vedete che la mia vita in basso a sinistra è 65, non è 100, perché appunto ho affrontato il calabrone là nei campi. Là in fondo lui si vedeva il mulino prima. E diciamo che l'ho patita abbastanza. Allora, credo che qui... Vedete, lì c'è un'altra zona. E lì non so che cosa si potrà fare. Comunque. È bella grande comunque la taverna. Va bene, ho i semi, adesso dovremo comprare la zappa. Come posso fare? C'è qualche tipo di tecnologia? Ok. Ok, dovrò comprare. Compro una zappa. E infatti la zappa, lo capite guardando l'inventario del venditore, alcuni oggetti hanno un livello e altri no. Quindi probabilmente quelli senza il livello, tipo il pollo domestico, l'animale, il maiale domestico, non hanno un livello. Non aveva neanche la zappa prima, che adesso invece è qui. E probabilmente perché si sbloccano tramite questa, una volta arrivati a un certo punto. Io in questi giochi, come ho detto, spero sempre, per qualcuno magari che l'ha giocato mi sa dire di più, spero sempre che una volta che finiscono di spiegare i giochi non finiscano, ma consentano di giocare. Comunque piantiamo. Ok. Ho preso tre semi credo, quindi mi metto già a posto tre zone. Pianto il seme, questo. Fertilizzo, non posso. Non ho del fertilizzante, però vedete che la barra sta salendo anche abbastanza relativamente in fretta. Vediamo se c'è qualche tipo di fertilizzante che vende il tizio qui. E avanzando a livello tre, ho sbloccato anche nuove ricette, tra cui il grano. Cioè, una ricetta che coinvolge il grano, quindi vedete semi di mais, adesso li vende lui. Non ha poco, però potrei prenderlo poi. Non c'è nessun tipo di fertilizzante. Però almeno adesso abbiamo tutto sbloccato. Dovrei riaprire la taverna. La taverna, se voi sapete fare altre ricette, come vedete qui mi chiede il mais bollito, un secchio d'acqua e mais, 10. Posso aggiungerlo al menu. Il problema è che costa anche molto di più. Oddio, 5 monete più del porridge d'orzo. Però dovrò avere un'altra cucina. Cioè, la cosa bella che mi piace di questi giochi è che vi lasciano la libertà di sviluppare l'interno come meglio credete. Cioè, io sono più comodo ad avere tante botti pronte per la birra, lo faccio. E la cosa bella è che il gioco lo potete giocare fino a 4 persone. È cooperativo. Quindi giocando con un amico, ad esempio, lui può lavare i piatti, può stare in cucina, preparare tutto e magari mettere i mobili in modo diverso, un po' più congeniali rispetto a come ho fatto io. E quindi potete giocare in due. Uno fa una cosa diversa dall'altro. Adesso noi piantiamo tutti i semi. Dovrei comprare un'altra cucina. Vabbè, intanto, magari... Qui, è pronto? Quasi. Sì, poi potrete dire, eh, ma non posso piantare dove voglio. È vero, sì, certo. Alzo le mani. Allora, sai che è pieno? Vado a fare un po' di roba prima. Vado a riempire l'acqua della lavastoviglia. Così laviamo i piatti. Non ho niente, vedete che poi li appoggio lì, tutti quelli... Qua la botte ne ho una nuova. Posso già prepararne un'altra. Quindi devo mettere il mosto d'orzo, metto l'orzo, metto l'acqua. L'orzo ancora. Ok. Lo preparo. Una volta finito lo metto qui, con un altro secchio d'acqua. E preparo un'altra botte da 10 pinte. Poi vabbè, è più facile farlo che spiegarlo. Comunque sto preparando perché, secondo me, a breve riapro. Quindi è meglio prepararmi. E riapriamo a breve. E metto già l'acqua che serve, così almeno ce l'ho già. Aspettiamo che venga su il grano. Quasi pronto. Ok, questo è pronto. Prendo la pianta. Prendo la pianta. E prendo la pianta. Non ne ho abbastanza. Dovrebbe essere l'erba magica. Il mais bolleto. Ok, devo fare il mais bolleto. Perfetto. Ovviamente il mais bolleto, come ho detto, serve a 10 di mais. E io ne ho solo 6. Quindi devo aspettare che finisca di crescere qui. Per intanto, io continuo la produzione. Vedete qua? Io ho finito. Lo metto qui. Lo butto qua. e faccio un'altra botte. Una volta che questa botte è piena, la prendo, la porto lì, la riempio e la rimetto qua. Io farei anche una cosa. No, bisogna comprare anche il numero di piatti. Adesso ne ho 6 più 1, 7, credo. E potrei andare a preparare un po' di piatti. Però, mannaggia, non ho soldi. Non ho soldi per fare il porridge ancora. Perché posso vendere qualcosa? Dove sono? Semi mancati. Vendo il miele, dai. Tanto non mi serve adesso. Allora, facciamo così. Compro un orzo e dei piatti. E ne ho comprati altri 5 di piatti. Perfetto. Perché? Perché adesso con l'orzo io faccio già del porridge. E... Il secchio d'acqua. Cucino. Vado a riempire intanto il secchio. Perché voglio prepararlo già, metterlo da parte. E ho già i piatti, sono 5. Non 10. Ne fa solo 5. Eh sì. 1, 2, 3, 4, 5, vedete? Però io adesso devo andare a selezionarli perché non me li posiziona qua. Quindi, andiamo a metterli tutti qui. In modo da rendere più facile il trasferimento. Così che quando me li chiedono, poi se vi organizzate con un amico diventa una sorta di overcooked. Perché li posizionate qua. Pronti non si raffreddano, insomma. Il mais bollito invece mi chiede 10 di mais e un secchio d'acqua. Il secchio d'acqua ce l'ho, io lo aggiungo già. Che è un mezzo secchio d'acqua. Più il grano e vado a raccoglierlo immediatamente. Non so se... Due mais. Due mais. Non mi dà indietro semi. Però intanto ho il mais che mi serve. Quindi, è bello anche che qualcuno tenga d'occhio lì e... Insomma. Eh... Mais. Perché non me lo aggiungi? Ah! L'aveva già aggiunto. Vabbè. L'aveva probabilmente già aggiunto. Ah no! È in pausa perché bisogna... Vedete c'è la freccettina carina. Va aggiunto dopo. Quindi il procedimento di cottura è sempre più simile a overcooked perché... Appunto c'è il processo. Perfetto. Adesso andiamo a depositare questo. E adesso diamo il mais bollito allo spaventapasseri. E poi andiamo ad apparire. Così almeno diamo un'occhiata... Vi faccio rivedere come funziona. Va bene. Ho completato da questa e lo spaventapasseri. Vabbè, lui è finito di parlare. Apriamo. Apriamo. Dovemo avere tutto quello che serve per andare avanti un pochino prima di chiudere di nuovo. Apriamo. E aggiungiamo al menu anche quello. Chiudo e riapro giusto per sicurezza. Perfetto. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto quello che serve. La birra non si può mettere già piena. Non si fa. Quindi la riempiamo al momento. Abbiamo attualmente una pinta già pronta. Una tazza pronta. Io magari prendo già delle tazze. I piatti sono pronti. Quindi prendo già tutto. E aspettiamo i clienti. Quindi adesso ogni birra sono di 22. 30 il porridge. E 35 il mais bollito. Vedete che poi si dividono per bollito, fritto, al forno, le bevande. Quindi insomma. E danno un'occhiata allo stato. Vediamo che siamo al livello 3. A metà più o meno dell'esperienza. Verso livello 4. Siamo ben forniti. Non abbiamo più un soldo. Vediamo se... Ok. Arriva qualcuno. Ovviamente li possiamo mandare via anche nel caso in cui comunque siano ubriachi. Oltre che per la chiusura. Una tazza. Allora la birra te la do già perché ce l'ho già qui. E poi voi il porridge. Prego. Poi quando hanno finito di bere vi lasciano i piatti e i boccali sporchi. E quindi bisogna andare a pulire. Vedete che qua c'è un altro palchetto che magari ci si può fare qualcosa. Una sorta di cucina qui. O dentro questo qui che si apre al livello 4. Quindi ci vuole un po'. Per sbloccare tutto. Questo è a livello 6. Il livello 8 di l'altra. Roba. Arriva altra gente. Devo mettere anche più tavoli. Lei vuole un porridge e una birra. Allora la birra ce l'ho già in tasca. No non ce l'ho in tasca ma in tasca al boccale. Quindi prendiamo un porridge e una birra. E vedete che non basta che... Non serve che io la seleziono. Gli consegno già tutti e due. Quindi avevamo 8. Abbiamo 68 adesso. Quindi abbiamo fatto 60. Nessun ordine ancora la pietanza nuova. Qua dentro si vede qualcosa. È una stanza alla fine. Oh è entrato un po' di gente. Salve. Allora. Una birra e il mais bolleto. Quindi. Uno per lei. Uno per lei. E vuole il porridge lei. E vedete anche l'amico che magari gioca con voi. Ve li sposta sopra. Che diventano più comodi da prendere. Poi a questo punto ho preso tutti i boccali e i piatti sporchi. Ho già riempito la lavastoviglie. Quindi vado a lavare. Quindi. Ci sono varie modalità di lavaggio. Uso quella che da menù è semplificata. Quindi praticamente c'è questa rotazione. Cioè vi si pulisce subito. Basta muovere un pochino il mouse sopra e ve lo pulisce. Sennò diventerebbe secondo me più tedioso. Tenendo premuto il tasto E rimettiamo a posto i boccali. Tenendo premuto qua il tasto E rimettiamo a posto i piatti. Siamo a 146. Stiamo continuando a guadagnare. Quando vedete questa cosa sopra magari gli date un paio di. Perché iniziano a cantare. Diventano molesti. E non li vogliamo. Altra cosa da lavare. Vedete che me li lava direttamente. Mentre prima cliccando a lato del pozzetto qua. Me li appoggiava. E quindi era possibile vedere quali erano ancora da lavare. Metto via. Metto via. Anche i boccali sono pieni. Lui cosa vuole? Vedete che state giocando magari in chat vocale. Fa birra. E tu che sei dietro prepari la birra. Non si può appoggiare quella. Quella va consegnata. Comunque più o meno. Vedete che poi qua pian piano procede tranquillamente. Le missioni al momento c'è solo la routine della taverna. E qua abbiamo l'inventario degli altri giocatori. Quindi è possibile dare oggetti ad altri giocatori usando questo. O non so se è valido nel caso in cui fossero offline. Comunque. Intanto è entrato un altro. Questo è molesto. Quindi lo mandiamo via. Mais. Perfetto. E intanto magari l'amico va e raccoglie il mais che... Come le due a pianta eh. E ne ho altri dieci però. Cavoli. È entrato un altro tizio. Allora mais bollito. Lo facciamo ancora. Quindi aggiungo l'acqua. La cucina e poi vai avanti. Tu invece? Ah voi la volevi la birra. Scusi se lo faccio aspettare. Ok. E aggiungi il mais. Perfetto. Signori? Allora porridge, birra e porridge. Quindi due porridge. Uno, due. Il porridge l'abbiamo così finito. Dovremmo toglierlo dal menù. E una birra. Perfetto. Lei. Appoggio qua la roba in modo da... Eh no me la fa lavare. E poi l'acqua finisce ovviamente. Quindi dovete cambiarla. Ce n'è ancora uno su dieci. Quindi... Mi manca il porridge adesso. Quindi devo prendere i piatti. Ancora un piatto. Così che lo svuoto. Allora facciamo... No scusate. Il porridge. Perché l'ho finito. Porridge. Perfetto. E se c'è l'acqua che non c'è vado a riempirlo. Al momento non ho notato che se ne vanno via diciamo molto facilmente i clienti che non servite. Quindi... Boh sarà da vedere. Intanto... Vediamo. Allora. Allora intanto... Intanto... Mettiamo anche l'acqua. Cucina. Perfetto. Quindi... Vediamo cosa vuole. Ah porridge. Mannaggia. Cos'è finito il porridge? Se non che è l'ultimissimo questo. Mais e una birra. Ok. Quindi birra. E del mais. Tu vuoi del mais. Bravo che è quello che costa di più. Questo ubriaco lo mandiamo via. E come vi dicevo a breve adesso spigliamo l'ultima birra. Vedete che la botta è finita. Quindi tengo premuto. Prendo la botte. E ce l'ho nell'inventario. Vado qui. La riempio. L'ho riempita. E la riposiziono. Posso avere poi più botti. Nuovo livello della taverna. Siamo arrivati al livello 4. Quindi a questo punto abbiamo la bistecca di cingale fritta. L'anaffiatorio. E la griglia. E tra l'altro si è aperta anche questa stanza. Quindi sappiamo anche che non bisogna pagare nulla. Quindi possiamo mettere una zona qua o di stoccaggio delle botti piuttosto che di cucina. Questa è una cosa molto bella. Perché mi consente di organizzarmi come ne ho voglia. E quello mi piace molto. Allora intanto non abbiamo piatti. Quindi bisogna prendere un po' di piatti. E vedete che ho cucinato adesso. Ne lavo uno. Giusto per. Preso il porridge. E glielo servo. Tu? Vuoi del mais bolleto. Perfetto. A questo punto io mi fermo per riorganizzarmi un po'. Quindi chiudo la taverna. E quindi non arriva più nessuno. Finisco di servire la gente che è dentro. Hanno buttato anche i boccali a terra. Questi animali. Allora. Il gioco è molto carino. Lascia molto spazio. Per organizzarsi come meglio si crede. Con un amico lo potete fare ancora meglio. Meno di 15 euro. 14 qualcosa. Assolutamente li vale tutti. Assolutamente. Parere mio. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. E al prossimo video gameplay. Alla prossima. E ciao ciao.